Il ballottaggio consegna un tris di vittoria al centrodestra che trionfa in tutti e tre i comuni chiamati al voto per il secondo turno. Centrodestra che vince ad Osimo, a Recanati e ad Urbino che conferma Gambini al terzo mandato in una città che ora avrà anche lo status di capoluogo. Per la provincia di Pesor Urbino si chiude dunque una tornata elettorale con conferme importanti e riconquiste pesanti per il centrodestra da Fano a Pergola. Per Nicola Baiocchi, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, da questa tornata elettorale il centrodestra esce con un saldo quanto mai attivo. Un ottimo risultato è la conquista chiaramente di Fano, chiaramente la terza città delle Marche. Ieri la conquista di Urbino, un comune importantissimo all'interno dello scacchiere provinciale e regionale, sappiamo tutti l'importanza del comune di Urbino, quindi complimenti al sindaco Gambini, un grandissimo risultato al ballottaggio che testimonia l'importanza del radicamento del territorio e del buon governo, ma anche tanti piccoli comuni che nel territorio sono passati al centrodestra, come la riconquista di Pergola, di San Costanzo, che era governata dalla sinistra praticamente da sempre, di Macerata Feltri, il comune dove risiede Alessia Morani, Monteporzio, Pianni Meleto, tanti comuni importantissimi nello scacchiere che hanno una rilevanza importantissima sia a livello provinciale che a livello per le prossime regionali. Quindi tanti sindaci nuovi, molti anche giovani, che avranno un compito importantissimo, quello di gestire il nuovo comune all'interno del novero del centrodestra. Per il centrosinistra Pesaro rimane la roccaforte, ma a dire di Baiocchi il mandato di Biancani parte subito con una dichiarazione reputata infelice a seguito della morte per overdose avvenuta nei giorni scorsi al Parco Miralfiore. Veramente allibito perché pensare di porre allo stesso livello, sullo stesso piano, delle persone che devono essere aiutate ad uscire dalla droga, come gli assuntori di droghe, rispetto a coloro che invece sono dei veri e propri venditori di morte come i pusher mi pare veramente assurdo. Minimizzare tutto, gli spacciatori ci sono perché c'è chi consuma la droga, veramente è un mix di pressapochismo, banalità che non è rispettoso neanche a confronto di questi poveri genitori di questo ragazzo che purtroppo è schiavo, è stato schiavo come tanti magari del mondo della droga, ecco qui noi dobbiamo essere invece bravi a cercare di aiutare questi ragazzi a uscire dal mondo della droga e cercare di non minimizzare tutto, questo è un problema che noi ormai sollecitiamo ad oltre dieci anni ma l'amministrazione ha sempre fatto finta di niente perché è più facile far vedere che i problemi non esistono piuttosto che aver voglia di risolverli, quindi sono veramente molto dispiaciuto di questa dichiarazione, se questo è la partenza di Biancani siamo a posto. Grazie 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 Grazie